La settimana nazionale della protezione civile si apre in Abruzzo con una firma importante, quella che questa mattina hanno messo il sindaco di Sulmona Gianfranco Di Piero e il direttore regionale della protezione civile Mauro Casinghini per un accordo che farà nascere a Sulmona, in località La Valletta, il quinto polo logistico di protezione civile regionale dopo quelli di Preturo, Avezzano, Notaresco e Lanciano. Significa arrivare rapidamente, rispondere rapidamente all'esigenza della popolazione soprattutto nella sua assistenza nei momenti post emergenza. Abbiamo istituito questa rete di poli logistici che ovviamente hanno proprio questa finalità ma che diventano anche un po' il punto di riferimento del nostro volontariato e del sistema regionale di protezione civile perché poi di fatto in questi posti si sviluppano le attività anche formative. Al nuovo polo saranno assegnati questi due capannoni e gli uffici della Valletta dove ci sono già le sedi di Cocca e Come dove in prospettiva si potranno occupare anche gli spazi attualmente utilizzati per il trasporto pubblico locale quando e se sarà trasferito a Tua. Qui, oltre ai mezzi di pronto intervento, a servizio di un territorio vasto e fragile saranno organizzati anche corsi di formazione e addestramento per un territorio che vanta un gruppo di protezione civile molto esperto e attivo e dove il tema è, come dire, di casa. Dopo la firma dell'accordo oggi, infatti, si sono tenute due importanti conferenze nell'aula consigliare di Palazzo San Francesco una con il professore Elvezio Galanti, che a Sulmona è legato anche per vincolo familiare padre del metodo Augustus, un po' la bibbia del sistema di intervento e coordinamento dei soccorsi e una con Alberto Pizzi, relatore della microzonazione sismica di terzo livello a Sulmona strumento prezioso per prevenire gli effetti del sisma. Vuol dire che le nostre capacità di conoscenza sugli effetti che un evento dellurico può ottenere nei confronti del patrimonio edilizio diventano meno aleatorie di quanto erano prima del terremoto dell'Aquila che in realtà ci ha insegnato molte cose e che però ci ha trovato sostanzialmente impreparati soprattutto sotto profilo scientifico. Al di là degli studi resta l'importanza della consapevolezza collettiva come comportarsi in caso di emergenza, che sia un terremoto, un incendio, una guerra, un alluvione per questo la settimana della protezione civile sarà presente per tutta la settimana sul territorio nazionale e regionale oggi a Sulmona, domani all'Aquila per una simulazione con i ragazzi dal 9 al 12 al Castel di Sangro per prepararsi ad un'eventuale accoglienza degli abitanti di Procida in queste settimane sotto la spada di Damocle dei bradisismi e del vulcano e nel fine settimana con la campagna di sensibilizzazione Io non rischio è un momento di sensibilizzazione della comunità affinché la gente diventi parte dirigente della protezione civile io lo dico sempre e lo continuerò a dire siamo tutti protezione civile perché noi non possiamo fare tutto da soli